Solo accogliendo con umile gratitudine l'amore del Signore, ci liberiamo dalla seduzione degli idoli e dalla cecità delle nostre illusioni. Così Papa Francesco, prima della consueta preghiera dominicale dell'Angelus, commentando il Vangelo, il Pontefice ha chiarito che il denaro, il piacere, il successo abbagliano, ma poi deludono, promettono vita, ma procurano morte. Il Signore invece ci chiede di distaccarci da queste false ricchezze per entrare nella vita vera, la vita piena, autentica e luminosa. La fede e l'attaccamento alle ricchezze non possono convivere, ha concluso Papa Bergoglio, e solo se ci affidiamo al Signore possiamo superare tutti gli ostacoli che ci impediscono di seguirlo nel cammino della fede. Solo aprendo il nostro cuore all'amore di Gesù potremmo realmente appagare la nostra sete di felicità.